Articolo 20, diritti e obblighi dei lavoratori, top o scontato che tutti lo conosciamo, però più o meno dice, riassumendolo, che io bravo lavoratore devo rispettare le regole aziendali, io bravo lavoratore devo proteggere la mia salute e quella dei miei colleghi, devo interrompere il lavoro degli altri se vedono un'operazione pericolosa, al comma F non devo rimuovere le protezioni, i dispositivi di sicurezza non devo rimuovere, manomettere, senza autorizzazione, l'ho riassunta perché se no parliamo all'articolo 20 per un'ora e a noi ci interessa questa parola qua, senza autorizzazione, quindi vuol dire che puoi farlo, tu puoi rimuovere o puoi manomettere i dispositivi, e chi è un lavoratore? Scusate l'organigramma c'è il lavoratore, c'è il preposto, c'è il dirigente, c'è il datore di lavoro, se lo semplifichiamo, il lavoratore è quello bambino di 5 anni che non può decidere niente, non fa niente, fa solo quello che gli viene detto, il preposto è quello che controlla il lavoro degli altri e un po' lo organizza, ma non può spendere soldi, il dirigente è quello che controlla il lavoro degli altri, lo organizza e può spendere un po' di soldi, il datore di lavoro è Dio, lui può tutto, ok? Riassumendolo così, quindi la frase non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, come la interpreto? La interpreto che ci sono delle situazioni normali in fabbrica, non evitabili, ed è giusto che ci siano, dove tu rimuovi le protezioni, dove tu modifichi la macchina, però c'è l'81-2008 che lo vieta, c'è la direttiva macchina che dice non mi piace tanto, però tu per produrre lo devi fare, quali sono queste situazioni normali? Regolare la macchina, regolare vuol dire ho un cartopallet, sapete quelle macchine che chiudono i cartoni nel confezionamento, che mettono lo scotch sopra e scocciano e chiudono, spesso premono sul cartone ad aria, c'è un piattello che schiaccia giù ad aria, no? E ho delle vittine che io regolo con un cacciavite, con una brugolina, per fare un esempio, oppure ho una situazione dove devo pittuare su delle tovagliette di carta e a seconda della velocità la tovaglietta si sbava o no, oppure c'è un forno e siccato, come si può dire, la pastorizzazione delle bibite, le bibite entrano dentro un forno a 70 gradi, le lasciano lì un po' tempo per pastorizzare la bibita, tutti i casi normali, tutti questi casi qua bisogna regolare, perché magari cambia la temperatura, cambia l'umidità intorno, cambia il prodotto, cambia la quattro, tante variabili e quindi mannari per regolare e non perdere troppo tempo e questo è l'inghippo negativo, perché perdere troppo tempo nel penale poi ti dicono, ah l'hai fatto per guadagnare, tu bypassi le sicurezze, questo è, oppure devo fare manutenzione, ricerca guasto, ricerca guasto vuol dire che la macchina non va come dovrebbe andare, quindi il prodotto è una stucciatrice, magari c'è la data di scadenza, lei quando va piano la fa perfetta, ha una velocità normale, la sbava e tu dici boia, come faccio? E non era tentativi, quindi devi fare delle regolazioni, torniamo alle regolazioni, fare regolazioni qua e là ha tentativi e quindi devi vedere e quindi smonti, se sei nella cosmetica farmaceutica le protezioni sono trasparenti, c'è il GMP, deve essere pulito, devo guardare, ma se sei nella metalmeccanica non c'è niente di trasparente, è tutta la miera, non vedi niente, mi seguite? E quindi ricerca guasto come fai? Tu apri il quadro, eludi il sezionatore, lasci la macchina in tensione, rimuovi le protezioni e fai andare la macchina e vai a tentativi, vedi questa cosa fa, questa cosa non fa e anche qui nel manuale del costruttore è vietato espressamente, sempre, nell'81 è vietato espressamente sempre e tu lo fai lo stesso, sì lo fai lo stesso, la terza regolazione è pulizia, torniamo a farmaceutico, cosmetica, alimentare, devo pulire tutto, non posso lasciare le cose sporche, quindi ho lì con l'acqua e pulisco tutto, oppure soffio, oppure aspiro, oppure non so, e spesso per pulire devo smontare, perché faccio prima, magari è pure esternalizzato, magari ho fatto per una cooperativa, non lo fa neanche i tuoi dipendenti diretti, questi sono casi normali, come si fa a farlo? Lì è espressamente vietato, chi è che autorizza? La risposta esatta è autorizza il datore di lavoro, non c'è un ente statale che viene e ti autorizza, la persona che ti autorizza è il datore di lavoro, perché il datore di lavoro può autorizzarti? E qua iniziano le ventose, nel senso che qua inizia, se parli con uno sbirro, io insegno le ATS, quindi se abbiamo un rapporto di collaborazione, io ho un ruolo, loro hanno l'altro, quindi loro la interpretano in un modo, io la interpreto in un altro, e in tribunale intanto vinco io, intanto vincono loro, vediamo, però il datore di lavoro valuta il rischio, il datore di lavoro non può delegare la valutazione del rischio, è un suo compito non delegabile, si può far aiutare da voi che fate l'RSPP e il consulente della sicurezza, ma è la sua responsabilità, quindi sotto la sua non delegabile responsabilità, lui valuta il rischio e dice che quell'operazione si può fare, ma deve mettere delle condizioni e abbiamo qua i paletti, i paletti sono sul manuale di istruzioni, cosa c'è scritto? Perché ve lo dico? Perché il manuale di istruzioni è la legge di come si usa la macchina, che non l'ha scritto lo Stato italiano, l'ha scritto il costruttore, e il costruttore l'ha scritto sulla base di questo, direttiva macchina o regolamento macchina, a seconda di quello che applica nel momento in cui la vende, e quindi io leggo il manuale ed è espressamente vietato, e quindi questo è il primo paletto, oppure non è scritto, e questo sono più contento, perché se è espressamente vietato, commetto un reato, perché l'articolo 71 mi dice che io non posso rimuovere le protezioni e non posso andare contro il manuale, ve lo semplifico, se non è scritto è una lacuna del manuale.